Cari amici di Valdo TV, oggi siamo andati in gita. Col caldo della città c'è un luogo dove aria fresca, verde e natura la fanno da padrone. Dove la brezza notturna fa ricordare la primavera ormai trascorsa. Dove gli animali corrono liberi per i prati e dove lo sguardo lanciato verso l'orizzonte trasmette la sensazione di essere coccolati da una culla naturale di colore verde. Ci troviamo in Cansiglio, l'altopiano prealpino situato a mille metri d'altitudine tra le province di Belluno, Treviso e Pordenone. Forse non tutti sanno che questo luogo, oltre alle sue bellezze naturalistiche, presenta anche numerose attrattive turistiche ed un'ospitalità davvero unica. La nostra gita ci porta oggi presso un'azienda agrituristica molto nota qui in Cansiglio. Una romantica casetta che domina tutto l'altopiano, una stalla, tante mucche e tanti cavalli liberi di gironzolare per i prati sottostanti, stiamo parlando dell'agriturismo equestre Le Code. Appena arrivati a Le Code, l'accoglienza di Giannina è davvero unica. Il sorriso e l'allegria che la contraddistingue ci fa sentire subito come se si fosse parte della famiglia. Al lavoro poi c'è Milo, marito di Giannina, colui che se non fossimo in montagna potrebbe essere definito un vero e proprio imprenditore. Ma quassù il termine imprenditore non esiste. Qui la vita è fatta di ritmi ben scanditi della natura, 365 giorni all'anno. Senza però l'inutile frenesia che ha caratterizzato le vite di chi, nel tempo, ha perso il contatto con la natura. Sicuramente il consiglio è un luogo magnifico, ma è magnifico perché comunque da sempre c'è la mano dell'uomo che lo tiene curato. Oggi come oggi ci sono molte spinte da vari parti che vorrebbero il consiglio libero, il consiglio senza l'uomo, ma il consiglio senza l'uomo non sarebbe il consiglio, perché ricordiamo che la foresta del consiglio è sì una delle più belle foreste, non d'Italia, è una delle più belle faggette d'Europa, ma è così perché comunque da secoli c'è la mano dell'uomo. Il consiglio, essendo anche tra l'altro molto comodo la pianura, è fruito da migliaia e migliaia di persone, assolutamente non si può dire un posto isolato e anzi, andrebbe sviluppato proprio da questo punto di vista, siccome ci sono moltissime persone che vengono in consiglio per vedere le bellezze del consiglio e per assaporare comunque l'aria pura e sicuramente anche molto più fresca perché teniamo presente che da qui alla pianura ci sono normalmente almeno 10 gradi di differenza, purtroppo anche in inverno, tra parentesi. Io credo che le persone che vedi qua in consiglio sicuramente dall'altra parte non le vedresti. E poi c'è Andrea, il piccolo Andrea, anche se ormai ha più di 20 anni, nato qui tra il verde dei prati e l'azzurro del cielo, un po' come in una fiaba, allegro e spensierato, con tanta voglia di divertirsi, ma anche di gustarsi ancora per molto tempo questo luogo incantato. Cosa vuol dire vivere in montagna per un ragazzo giovane come te? Non è facile, bisogna adattarsi sempre a qualunque situazione in cui ti trovi e ti devi adattare. Cosa consiglieresti ai tuoi coetanei, ai tuoi ragazzi giovani che magari vivono in città, non vivono in montagna? Di provare queste realtà perché sono ben diverse da quello che credono sia la loro realtà. Secondo me la vera realtà è questa, la città non è la realtà, la realtà è la natura, è vivere all'aperto così. Domenica 2 luglio Milo e Giannina con Andrea hanno festeggiato i loro 25 anni di attività in consiglio, dove per l'occasione il fienile si è trasformato in un'originalissima sala da pranzo del profumo di fieno e dove appositamente per l'evento sono arrivati fin qui un gruppetto di amici del segusino, cuochi per un giorno. Circa 200 gli invitati alla festa del 25esimo, parenti, amici, collaboratori, ma anche tanta gente è diventata amica per il solo fatto di essere arrivati qui un giorno come clienti. Ma da Milo e Giannina si sa, si è clienti solo per i primi due minuti, poi si diventa amici, amici per sempre. Com'è iniziata questa avventura? Perché è iniziata? Ma è iniziata quasi per scherzo e per sfida, nel senso che io comunque già operavo in zootecnia, ho lavorato per sei anni presso la cooperativa a Montecavallo di Collinde, Satambre, e poi avevo sentito che metteranno a bando appunto questa azienda e così un po' per sfida, un po' per voglia di mettersi in gioco, siamo partiti appunto con questa avventura che comunque continua ancora tuttora. Come si svolge una giornata tipo qui in Cansiglio? La giornata tipo sveglia alle sei, in estate ovviamente, portare dentro gli animali, mungitura, alimentazione poco e niente, nel senso che essendo il pascolo mangiano fuori, e gli diamo una piccola integrazione, la sera alle 5 di nuovo rientro in stalla, recupero gli animali, mungitura e dopo escono di nuovo e verso le 8 abbiamo finito. Però il Cansiglio non è solo estate, è sole, c'è anche l'inverno 365 giorni all'anno? Il Cansiglio purtroppo e fortunatamente anche l'inverno che è ben diverso dall'estate, abbiamo temperature molto rigide ed è molta fatica lavorarci. Molta, i ritmi sono molto rallentati, si fa un po' di fatica ma si fa, gli orari sono più o meno sempre quelli, qualche ora di lavoro in più durante il giorno, fatica con il freddo. Una giornata magnifica quella offerta dalla famiglia veronese, tutti come in una grande famiglia, degustando i piatti cucinati per l'occasione come la pasta, lo spiedo, i vari contorni e per finire col taglio della torta del 25esimo di attività. 25 anni fa com'era e com'è oggi? Beh, 25 anni fa sicuramente quando siamo arrivati qua noi era molto diverso, perché c'erano delle strutture vecchie, abbastanza fatiscenti anche, e la maggior parte di quelle che oggi vedete qui non c'erano proprio. Noi abbiamo fatto dei grossi lavori di miglioramento, soprattutto miglioramento strutturale, perché la stalla, inizialmente a stabilazione fissa, l'abbiamo poi trasformata a stabilazione libera, con un ampliamento abbiamo costruito il fienile, abbiamo sistemato la casa e l'abitazione trasformandola in agriturismo, sistemato un'altra struttura, i lavoretti ne sono stati fatti parecchi. Il Cansiglio, un paradiso da scoprire a piedi, a cavallo, in bici, passando per l'agriturismo le code da Milo Giannina e Andrea Veronese, alla scoperta della pace, della tranquillità, del profumo dell'aria fresca, ma soprattutto in un ambiente dove sentirsi come se si fosse a casa propria, è la normalità. Grazie, grazie a tutti. Arrivederci, chissà che magari non riusciamo anche a rivederci in un'altra occasione, chi lo sa, vedremo. Grazie ancora. Grazie. Grazie a tutti.